Buongiorno Quarta posizione Alla quarta posizione abbiamo Step che fa quad con un colpo Con un colpo quanto dipende? Quattro E poi peccato che potrebbe essere anche Favon Skincare per si smarchere all'ultimo Terza posizione Alla terza posizione abbiamo Taki Basti che fa Uno spawn shot su stand off con il Con il tomo che l'ho fatto io Nel mio dream shot quindi ovviamente questo è Il mio dream shot complimenti E ti vedo questa clip Chi è questo? L'avversario Che ha ucciso Seconda posizione Alla seconda posizione abbiamo Rack Soshi Che fa tantissimi headshot Tipo ne fa uno poi ne fa tantissimi altri Scusate qua metto un attimo in pausa Cioè devo aggiustare la cosa al telefono Fa tantissimi headshot tipo qua fa Six man headshot e si vede adesso La femmine non screen headshot Ora vediamo la clipa rallentatore Che cosa ti piace? Che numero è questa? La seconda La seconda Quali ce ne sono ancora? Una Vediamo la clip rallentatore Complimenti a Rack Soshi Prima posizione Alla prima posizione abbiamo Dekay che fa un trick shot Bellissimo Penso Cioè ho messo questo Alla prima posizione rispetto agli altri Perché è veramente Schillata Comunque complimenti anche a Rack Soshi E in breve fa lancio la Pokéball Cioè sparare con la MSMC Lancio la Pokéball Due settori Pokéball E lo prende abbastanza di San Suicide Su Ride 1080 Ok Le top di oggi sono finite Spero vi sia piaciuto Saluta Ciao Non perdetevi lì Ma che dalla fine Passatemi ovviamente le clip Per i prossimi episodi Quanti mi piace Chiediamo? 200 A 200 livelli ci sarà il prossimo episodio Che ovviamente non sarei con lei Perché è handicappata Da Gioe Da Gioe E noi mi è tutto Bella Ciao Ciao Ciao